Buongiorno a Maglio Di Stefano del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, così ha deciso il Capo dello Stato e voi immediatamente avete detto noi non lo voteremo. Beh, è evidente che un governo che poi lo si chiami neutro, lo si chiami tecnico, poco cambia, riservizio del Presidente, tutte formule diciamo più giornalistiche che poi di fatto avrà a che fare con dei passaggi della nostra Repubblica fondamentali e non esiste un governo neutro quando ad esempio si scrive il documento di economia e finanza perché nel documento di economia e finanza puoi scegliere di mettere i tuoi fondi sul re di luce cittadinanza oppure sul salvataggio del sistema bancario ad esempio. Nessuna scelta è neutra, sono scelte politiche e queste elezioni hanno dimostrato che la stragrande maggioranza, due terzi degli italiani, non è più dei governi fatti da chi esce da prima e seconda Repubblica e dei governi cosiddetti tecnici, dei vari monti, fornero e quant'altro. E allora è evidente che bisogna fare qualcosa per dare a questo Paese un governo. Noi ci abbiamo provato per 62 giorni, mi viene a dire che più di così non potevamo davvero, cioè chiunque abbia visto la storia del Movimento 5 Stelle in questi anni ci avete pure tanto largamente attaccato per essere sempre ultra ortodossi. Noi abbiamo fatto delle aperture così ampie che abbiamo rischiato quasi di perdere parte della nostra base elettorale perché ci hanno attaccato. Però fino all'altro ieri non si prescindeva dal Di Maio Premier, per esempio. Ma questo in realtà è un argomento che Di Maio parlando con chi doveva, quindi con Salvini a porte chiuse, va sempre detto indicateci un nome. Ma noi prima di quello però volevamo parlare di un programma e nessuno ha avuto né il PD né il centrodestra, ha avuto la voglia nemmeno di sedersi a un tavolo per scegliere insieme un programma su cui fare un governo. Questo è il senso veramente di irresponsabilità dei partiti, perché io capisco se il Movimento 5 Stelle avesse detto mettiamo noi il premio e noi il programma, voi scegliate i voti. Quello sarebbe stato ovviamente follia. Noi abbiamo detto invece scegliamo insieme un programma, poi pensiamo alla squadra di governo. Non sono venuti neanche al tavolo del programma. Ma il capo dello Stato quali alternative aveva? Il capo dello Stato, noi l'abbiamo detto più volte, è stato secondo noi molto corretto nella gestione di questa fase. Però c'è anche da dire chiaramente che il capo dello Stato ha delle prerogative, ma quelle devono rimanere, nel senso che deve valutare, deve vagliare se esiste una maggioranza possibile di governo. La maggioranza non esiste a queste condizioni, perché sostanzialmente Salvini ha scelto di morire abbracciato a Silvio Berlusconi, che era tra l'altro quello che non doveva più voler vedere nel 2016, aveva detto, lo definì il condannato, ma è più con la Lega. Il PD di Renzi preferisce persino un governo tecnico, l'hanno detto ieri, a un governo scelto dai cittadini, perché il Popolo Italiano ha votato in larga parte il Movimento 5 Stelle e Lega Nord. Allora, la totale assenza di, neanche di responsabilità, ma il cinismo totale di questi due partiti fa sì che oggi Mattarella, secondo me, debba soltanto prendere atto che non c'è una maggioranza, riportare questo Paese alle elezioni. Però il Capo dello Stato ha detto, nel frattempo, io auspico che un'intesa parlamentare si possa ancora trovare, quindi seppure un Capo dello Stato molto deluso, come leggiamo anche oggi, amareggiato dai retroscena, insomma, si è arrivato a prendere questo tipo di decisione, confida ancora che qualcosa possa accadere. È possibile, secondo lei, che in una seconda fase qualcosa possa accadere, magari proprio nel centrodestra? Continuerò a essere diretto e trasparente come abbiamo fatto in questi 60 giorni. La frase di Mattarella cela un sentimento, una voglia di scoprire che poi al voto dell'Aula esiste una maggioranza, è l'unica possibile che potrebbe esistere il Movimento 5 Stelle e Lega, ancora una volta. Questa però, voglia, si scontra con una realtà, secondo me, che questo presumerebbe una scissione del centrodestra, che era quella che chiedevamo noi in questi 60 giorni. Allora, magari Salvini in cuor suo spera che Berlusconi voti questa figura del governo tecnico, così da poter avere una causa sbelli per distruggere la coalizione, però sinceramente pensare che dopo il voto del 4 marzo così chiaro e così netto occorra creare dei meccanismi totalmente fuori le logiche poi normalmente politiche e arrivare a queste situazioni in Aula, secondo me è svilente, perché Salvini ha tutta la possibilità già ora di chiedere a Berlusconi, che oltretutto è il quarto partito arrivato a queste elezioni, di farsi un pochettino di lato, non è nella sua natura non essere presente politicamente, Silvio Berlusconi, ma farsi quanto meno di lato e far partire un governo. Si poteva fare, il Movimento 5 Stelle ha, ripeto, messo a rischio parte del suo elettorato aprendo persino al Partito Democratico, che oggettivamente per noi è stato un grande problema per quello che il Partito Democratico rappresenta, il suo sistema di potere. Di Maio ha detto chiaramente, tra l'altro proprio un giorno prima delle nuove consultazioni, se il problema sono io, mi faccio la parte, scegliamo insieme un candidato premier, ma scegliamo insieme un candidato premier significa noi e la Lega che abbiamo vinto queste elezioni, scegliamolo insieme, non ce lo può imporre certo Silvio Berlusconi. Lei ieri era presente all'Assemblea, ieri sera c'è stata questa Assemblea, adesso magari entreremo anche nel, diciamo così, in che cosa accade poi per, non solo, per tutti i partiti, se si dovesse votare, voi avete detto tutti riconfermati, no? Gli stessi... Il suo Parlamento praticamente non è mai partito, non l'abbiamo fatta ancora neanche una seduta di votazione. Ricandidereste le stesse persone, diciamo così? Beh, mi sembra la cosa, se si dovesse andare a votare a lui, mi sembra la cosa più ovvia. Con Luigi Di Maio? Secondo mandato? Sì, sì, certo. Luigi Di Maio è un deputato con tutti gli altri ad oggi, quindi perché no? Non si pone il problema, diciamo così, di rifare... Certo, non c'è il veto Luigi Di Maio. No, non si pone il problema del vincolo e del terzo mandato. Ah no, non è mai partito il Parlamento ancora, non l'abbiamo fatta neanche una seduta. Quindi, siccome non è mai partito il Parlamento, non si pone questo senso. Poi, per carità, lo diciamo sempre, ma è vero, queste sono scelte che farà il garante che è Beppe Grillo, però credo che sia in sintonia con questa linea di pensiero. È vero che ieri, come leggiamo oggi, Di Maio ha detto nel corso di questa assemblea, spiegando un po' a tutti quello che era accaduto, che Salvini è falso ed è falso anche in privato? Beh, non ha dato queste parole, poi Luigi Di Maio lo conoscete, è sempre molto moderato. ha detto però che... No, in realtà non ha mai detto neanche questo concetto preciso. Lui ha detto che il problema di Salvini è che quando andava a parlare anche privatamente con Di Maio diceva sempre una verità che valeva soltanto però per la Lega Nord e mai per la coalizione di centrodestra. Quindi poi quando usciva da lì e faceva la dichiarazione a nome del centrodestra era sempre l'opposto di quello che aveva detto a Luigi Di Maio privatamente. Un esempio è quando si è fatto un minimo dibattito sulla possibile modifica della legge elettorale Salvini diceva che va bene anche il premio di maggioranza alla lista mentre poi come dichiarazione di centrodestra ovviamente parlavano di premio alla coalizione. Questo fa capire la totale inconsistenza della coalizione di centrodestra e soprattutto l'inaffidabilità nel caso di una formazione di governo. Per quello noi chiedevamo di poter parlare con un rappresentante che potesse parlare veramente a nome dei suoi voti che portava quindi della Lega Nord in questo caso. E' quello che è mancato in questa contrattazione di governo. Il punto è stata la legge elettorale. È la legge elettorale, no? Abbiamo sentito dire da più parti che se ci ritroviamo nella situazione in cui siamo è per colpa di questa legge elettorale. Ma adesso che cosa accade? O meglio, se noi torniamo al voto come voi chiedete a luglio, quest'estate ci torniamo con questa legge elettorale? Beh, per forza di cose. E allora che cosa cambia? Che diventa un derby tra 5 Stelle e Lega? Intanto chiariamo una cosa. Il problema è la legge elettorale, ma è un problema che se lo studiate a tavolino. Cioè questa legge elettorale venne creata apposta per far fuori il Movimento 5 Stelle. Lo dissero anche abbastanza chiaramente in tutto quel periodo. La cosa che è cambiata e è andata storta è che all'epoca il PD e Forza Italia avrebbero avuto con qui sondaggi la maggioranza per una coalizione di governo e quindi facevano fuori sia Lega che Movimento 5 Stelle e poi alle elezioni hanno perso questi numeri. Ma ora, se noi pensassimo solamente di dare a questa gente l'opportunità di nuovo di fare una nuova legge elettorale si prenderebbero due anni per fare una legge ancora più antidemocratica. Allora, se torniamo a votare con questa legge, cosa può succedere? Intanto non diamo per scontato che gli italiani non capiscono quello che è successo. Esattamente, esatto. Nel senso che gli italiani, secondo me, hanno ancora maggiormente capito chi sono gli artefici di questo caos, ovvero Forza Italia e il Partito Democratico. Io credo che nella condizione che si verrà a creare è che il Movimento 5 Stelle possa crescere ancora e la Lega Nord possa crescere ancora. Non è successo in Molise, Friuli, Venezia e Giulia. Nel momento in cui invece... Le elezioni amministrative però non sono mai... Eh, lo so che si dice sempre così, però... No, no, guarda, questa è proprio una questione di analisi dei dati. Nel Movimento 5 Stelle alle amministrative, quando si scontra con 20 liste civetta che sostengono un candidato, ha sempre avuto risultati molto più bassi rispetto alle politiche. Però oggi i sondaggi dicono che la Lega, per esempio, ha in forte crescita, se si dovesse votare a breve, un pochino il Movimento 5 Stelle perde o resta fermo. Ma noi abbiamo sondaggi... Che prezzo pagate voi di tutta questa... Ovviamente è quello di essere stati... Non avete sbagliato nulla? Secondo me no. Noi abbiamo provato, rispettando il ruolo anche del Presidente Mazzarella, a essere probabilmente gli unici seri e responsabili di queste consultazioni, perché era molto più facile buttare la palla in tribuna e dire io sto a guardare mentre voi vi provate a creare un governo e non ce la fate. Che è un po' quello che ha fatto Salvini. Salvini non ha mai toccato palla, ha fatto finta di essere come se non avesse corso alle elezioni, è stato lì a guardare, per poter dire in campagna elettorale perenne il Movimento 5 Stelle piuttosto va col PD. Noi abbiamo fatto esattamente quello che Mattarella ci ha chiesto, ovvero provare una strada, collega e con Partito Democratico. Sicuramente abbiamo pagato l'apertura al Partito Democratico, che viene visto da tutti, incluso da noi, il responsabile maggiore delle crisi che stiamo vivendo a livello nazionale, dei poveri, dei dieci milioni di poveri che abbiamo in Italia, della mala gestione dell'immigrazione. Ma noi abbiamo scelto, ripeto, di provarci, di dare agli italiani questa opportunità. E secondo me gli elettori, ad esempio, del Partito Democratico, se lo ricorderanno nelle prossime elezioni, chi è che li ha traditi davvero? Quindi sostanzialmente voi imputate a Salvini, mettiamola così un po', la colpa di non aver rotto con quello che voi chiedevate, di lasciare o comunque di costringere in qualche modo Berlusconi a fare il famoso passo di lato. Esiste un italiano che pensa... Questa intesa con Salvini ha funzionato molto, per quanto è riguardato, per esempio, decidere su varie posizioni, presidenze, Camere, Senato, questori. Non si è avuta l'impressione che proprio ci fosse una frizione tra 5 Stelle e Lega. Vi do un dato. Intanto la domanda. Esiste un italiano che davvero pensa che la coalizione centrodestra sia una coalizione? Cioè nel momento in cui si sono presentati con tre programmi, tre leader e tre idee di Europa addirittura. Già questo la dice lunga. Ma anche quel passaggio... Questo però anche voi, perché Grillo il giorno dell'intervista di Di Maio all'Annunziata, un giorno prima o poche ore prima, se ne è uscito con un blog in cui di nuovo rimetteva al centro la questione europea un po' diversamente da quello che è la linea di Di Maio. Grillo ormai da un annetto parla e dà la sua visione del mondo da libero intellettuale. Decidiamo però se è libero o se è garante. Perché poco prima mi hanno detto che è garante, decide le regole, le liste... Ma Grillo, il garante delle regole non vuol dire che sia l'opinion maker del Movimento 5 Stelle. Questo toglie dalla nostra linea politica a quella che è scritta nei nostri programmi, come dovrebbe essere ogni partito serio. Però quello che stavo dicendo è, anche nel passaggio che giustamente dicevi essere stato esemplare, quello della scelta delle presidenze delle due camere, nella scelta fatta in accordo con la Lega Nord, per la quale poi è stata eletta la Casellati, del centro-destra, del Senato e Fico alla Camera, Forza Italia non ha votato il nostro candidato alla Camera. Dimostrando ancora una volta che la coalizione non esiste, perché l'uomo indicato da Salvini non è stato votato da Forza Italia. Quindi, questo dimostra chiaramente che Berlusconi, in realtà in cuor suo, se avesse avuto i numeri per farlo, il 5 marzo avrebbe subito lasciato la Lega Nord, avrebbe fatto una coalizione con l'IPD. Fortunatamente per gli italiani i numeri non ce li hanno per farlo, altrimenti oggi avremmo di nuovo un governo Berlusconi-Renzi, come è stato quello dell'ultima legislatura. E gli italiani hanno detto in modo chiaro, questo siamo tutti d'accordo, spero che non ne possano più di queste cose. Quindi nessuno modifica la legge elettorale se si torna al voto in estate. Le chiedo questo perché Fratelli d'Italia aveva depositato alla Commissione speciale un emendamento per apportare una modifica alla legge elettorale che tra l'altro si poteva fare in tempi brevi proprio per la Commissione speciale, che ricordiamo è una commissione che, mentre non c'è un governo eletto, di sbriga e comunque ha i poteri di alcune cose. Perché è stata immediatamente accantonata? E quello è stato visto come un segnale di non volontà di mettere mano alla legge elettorale. Ma che si possa fare velocemente è il racconto di Fratelli d'Italia, perché tutti sanno che quando fai una modifica alla legge elettorale puoi andare a modificare il modo in cui fai le liste, andare a modificare l'assegnazione regionale dei seggi, andare a modificare una serie di cose che anche nel caso in cui c'erano due terzi di maggioranza, quello del tedesco, ve lo ricordate, ci vollero sei mesi per farle. Quindi la paura qual è? Ed è evidente che fosse una mossa per prendere tempo e stare probabilmente un altro annetto a cincischiare sulla legge elettorale. Ma poi gli italiani non ne possono davvero più di sentire fare la legge elettorale. Questa ultima legge statura l'ha modificata a quei voti di tutti tranne nel Movimento 5 Stelle. Quindi perché dobbiamo dare di nuovo la palla a questa gente per fare una legge ancora più lesiva del diritto democratico degli italiani di scegliere, votare e far governare il partito che hanno scelto il Movimento 5 Stelle ha preso il 33% e secondo questi signori che non trovano mai accordi dovrebbe stare all'opposizione. Non esiste un paese democratico che abbia una situazione del genere. No, però c'è un centrodestra che è in coalizione che lo stesso ha raccolto Evidentemente in realtà non è così perché non trova i numeri per farlo. Se avesse questa facilità di essere un blocco compatto avrebbe già trovato i numeri magari anche con altri attori in Parlamento col PD, non lo so, con chi. Non ce li hanno i numeri perché sono veti e controveti dentro la stessa coalizione. Un po' come nel Partito Democratico che Martina e Renzi sono due delle dieci anime del PD in questo momento e tutte contrastanti. Quella è la difficoltà nostra. Voi siete sicuri che diciamo così andando al voto eventualmente in estate a luglio, come si legge insomma sia qualcosa che incontra il favore del Paese che torna per l'ennesima volta per non parlare delle amministrative di giugno al voto? Io credo che se gli italiani dicessimo tornate a votare anche dieci volte ma alla fine di questo percorso vi daremo quello che avete chiesto il reddito di cittadinanza la porzione di legge Fornero abbassamento delle tasse voterebbero fino a dare un governo a questo Paese. Il punto però è avere il coraggio di capire che le prossime elezioni se saranno a luglio specialmente saranno un ballottaggio tra noi è un Paese governato da un'alleanza incredibile quella di Berlusconi e Salvini ancora una volta quindi se gli italiani prendono questa consapevolezza le prossime elezioni saranno un ballottaggio e vincerà chi ha un programma credibile e soprattutto una storia credibile non credo che possa essere Silvio Berlusconi ancora. Senta Di Stefano credo tra oggi e domani insomma vedremo i tempi saranno presentati i nomi questo governo neutrale quindi capiremo chi sono le persone indicate dal capo dello Stato poco prima del 4 marzo anche il Movimento 5 Stelle presentò la sua squadra con i ministri e quindi presentò agli italiani ecco anche in quel caso a parte alcuni mi viene in mente Bonafede al ministro Ministro Giustizia Fraccaro molti erano e sono diciamo così esponenti tecnici che vengono dalla società civile non politici perché i vostri sì e questi no? I nostri non sono tecnici i nostri sono tutte persone che competenti vengono dal mondo della società civile ma non hanno mai diciamo avuto ambizioni politiche e quant'altro e soprattutto sono persone che sono totalmente in linea con la nostra visione di futuro tante che abbiamo detto nella loro presentazione che erano persone che avevano testa e cuore cioè è tutta gente che non si metterebbe mai a piangere mentre approvava la legge Fornero è gente che prima di approvare una legge penserebbe qual è l'interesse degli italiani e noi li abbiamo scelti proprio perché conosciamo il loro percorso accademico e sappiamo che tipo di riforme hanno pensato cosa hanno scritto in questi anni e mettere invece il paese in mano a gente che viene dal mondo della grande finanza come ha fatto ad esempio col governo Monti come si è fatto col governo Monti sostenuto anche quello da tra l'altro da Berlusconi e dal Partito Democratico significa fregarsene di quello che gli italiani hanno indicato alle elezioni e scegliere tu da politico dall'altro del tuo scranno una linea che poi è l'opposta di quello che gli italiani vogliono detto ciò noi abbiamo detto anche per la formazione di governo proprio perché non avevamo i numeri per farlo da solito dopo il 4 marzo scegliamo un programma insieme e chi poi lo attuerà sarà soltanto uno che attua il programma non serve non lo puoi neanche più chiamare tecnico oppure politico un programma comune che si possa portare avanti non hanno voluto loro non hanno voluto né Berlusconi né Salvini né Renzi va bene la ringrazio naturalmente quindi voi confermate il vostro assoluto la linea è chiara la voto è prima possibile il vostro voto è prima possibile e il vostro voto contrario invece diciamo così in Parlamento a un governo neutrale proposto dal capo e qua c'è un passaggio importante gli italiani sappiano che se questo governo dovesse partire questo neutrale tecnico sarà solo nel caso in cui Salvini dia la sua fiducia a questo governo dopo 60 giorni di aver detto che non vorrà non vuole avere un governo tecnico perché la matematica non è un'opinione senza noi e la Lega il governo non parte quindi attenzione a quello che succede in questi giorni avete capito che il cerino passa di nuovo di mano e insomma questa è la situazione politica